Anche noi oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù, perché gli incontri il suo popolo. E certamente lo otterremo soltanto se ci lasciamo afferrare dal mistero di Cristo. Guidiamo il popolo a Gesù, lasciandoci a nostra volta guidare da Lui. Questo è ciò che dobbiamo essere. Guide, guidate. Papa Francesco si è rivolto così ai 7.000 consacrati e consacrate che hanno partecipato alla messa nella Basilica di San Pietro in occasione della festa della presentazione del Signore e della diciannovesima giornata della vita consacrata. Comentando la scena evangelica di Maria che introduce Gesù nel Tempio, portandolo ad incontrare il suo popolo, il Papa ha sottolineato che lei lo porta, ma è Lui che porta lei in questo cammino di Dio che viene a noi affinché noi possiamo andare a Lui. Gesù ha fatto la nostra stessa strada, ha spiegato, per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la via nuova e vivente, che è Lui stesso. E per noi consacrati questa è l'unica strada che in concreto e senza alternative dobbiamo percorrere con gioia e perseveranza. Una strada che passa attraverso l'obbedienza, ha aggiunto Papa Francesco, abbassandosi e facendo proprio la volontà del padre. Per un religioso progredire significa abbassarsi nel servizio, abbassarsi facendosi servo, per servire. Nell'obbedienza, ha concluso il Pontefice, matura la saggezza personale comunitaria e così diventa possibile anche adattare le regole ai tempi. Il vero aggiornamento infatti è opera della sapienza, forgiata nella docilità e obbedienza. Attraverso questo cammino siamo preservati dal vivere la nostra consacrazione in maniera light e disincarnata, che si ridurrebbe ad una caricatura della vita religiosa, nella quale si attuano sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comunione, un'obbedienza senza fiducia, una carità senza trascendenza.